Sì, dobbiamo discutere del disagio giovanile nell'età del nichilismo. Un problema che mi sono posto nel 2005, quando a Parigi ho conosciuto Miguel Benasayag, che aveva scritto un libro, a mia parere, molto importante, che siamo riusciti a tradurre in italiano con la Feltrinelli, intitolato L'epoca delle passioni tristi. Benasayag ha detto che i giovani stanno male, non per ragioni psicologiche, tutti quanti noi nell'adolescenza siamo stati mali in qualche maniera per ragioni psicologiche, nel senso che l'adolescenza è caratterizzata da un'intensità massima di pulsioni erotico-sessuali e i lobby frontali, che sono i lobby della maturità, della razionalità, arriva la maturazione a vent'anni. Quindi c'è uno squilibrio, anche perché gli adolescenti sono in crisi. Sono in crisi perché hanno un livello pulsionale eccessivo rispetto al livello razionale. Bene, lui diceva che i giovani non stanno male per ragioni psicologiche, ma per ragioni culturali. e questo era dovuto al fatto che per loro il futuro non era più una promessa, ma era una minaccia. Ecco, io non so se per loro è una minaccia, certamente il futuro è imprevedibile. E quando è imprevedibile, il futuro non retroagisce come motivazione. Perché devo lavorare, perché devo studiare, se non c'è niente davanti a me che opera da incentivo. E se retroagisce come demotivazione, uno si ferma. Si ferma e vive quello che io vado chiamando l'assoluto presente. Impresa diretta 24 ore su 24, senza uno sguardo al futuro, perché un simile sguardo produrrebbe angoscia. Ho detto, vabbè, forse non è una minaccia, però è imprevedibile. Questa imprevedibilità è dovuta a una situazione che si è venuta a creare e che io ho battezzato Età del Nichilismo. Età del Nichilismo. Nichilismo è una parola inventata da un russo, Turghanovyev, a metà dell'Ottocento, ma è stata sistemata e definita con estrema chiarezza da Nietzsche, il quale definisce il nichilismo con tre proposizioni molto rigorose. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Tutti i valori si svalutano. Dunque, che i valori si svalutano non è una cosa interessante, nel senso che la storia va avanti per svalutazione e rivalutazione di valori. Innanzitutto i valori non sono entità metafisico-teologiche che scendono sulla società. I valori sono dei coefficienti sociali che una società decide di assumere in quanto li ritieni i migliori per ridurre la conflittualità. Niente di più, niente di meno. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di uguaglianza. È cambiato tutto, ma non è finita la storia. Se i valori non trasmutassero, noi saremmo ancora all'età dei babilonesi. Quando le persone anziane dicono che questi giovani non riconoscono più principi, valori, quello che chiamano principi e valori sono parole nobili con cui le persone anziane rimpiangono la loro giovinezza e magari anche la loro sessualità. Niente di più e niente di meno. Le cose importanti invece sono le prime due frasi di Nietzsche. Manca lo scopo. Scopo è una parola greca che viene da scopeo. Scopeo è un verbo greco che vuol dire guardare, avendo in vista un bersaglio. I greci, la grecità, che è una cultura della luce, aveva diversi verbi per dire guardare, vedere. Se io contemplo, avevo il verbo orao, da cui per esempio la parola panorama, ma se io guardo invece mirato a un bersaglio da raggiungere, da scoprire, da indagare, allora questo bersaglio si istituisce come scopo. Anche noi abbiamo le parole telescopio, che non è guardare il cielo tanto per contemplarlo, quanto per individuare delle stelle. Microscopio, endoscopia, sono tutti sguardi mirati. Bene, se il futuro non ha un obiettivo, non ha uno scopo, allora accade appunto questa prima cadenza nichilistica. Manca lo scopo, manca la risposta al perché. Perché mi devo impegnare nella vita, se niente mi motiva. Perché devo stare al mondo. Qui entriamo in una situazione un pochino più pesante, dimenticando, o trascurando, o non considerando, che in Italia si suicidano 400 giovani all'anno, che non è una cifretta da niente. Perché è qualcosa di più di uno al giorno. Due mesi fa sono stato invitato da una clinica psichiatrica di Locarno, a parlare del disagio giovanile. Ho chiesto loro perché e mi hanno risposto perché il canton Ticino ha superato la Svezia e il Giappone e la Corea del Sud in termini di suicidi giovanili. Il canton Ticino è qua dietro. Ecco, qui allora ci sono delle grosse responsabilità e della famiglia e della scuola. La famiglia che si è mal adattata a questo radicale cambiamento del mondo. E la scuola... Ma incominciamo dalla famiglia. I giovani di oggi sono persone che un certo giorno sono nate e come tutti quelli che nascono, nei primi sei anni di vita, come dice Freud, devono formarsi le mappe cognitive e le mappe emotive. Freud dice che si formano i primi sei anni di vita in maniera definitiva. Cos'è una mappa cognitiva? Il modo con cui io conosco il mondo. Cos'è una mappa emotiva? Il modo con cui risuona dentro di me, risuonano dentro di me gli eventi del mondo. Queste mappe si istituiscono nei primi sei anni di vita, diceva Freud. Oggi le neuroscienze sono un pochino più severe e dicono che si formano definitivamente nei primi tre anni di vita. Che succede? Si ha cura di questi bambini mentre si formano le mappe emotive? Oppure no? La nostra società fa sì che i genitori devono lavorare entrambi perché altrimenti la famiglia non sta in piedi per ragioni economiche. E allora può darsi che se questo è il sistema economico e sociologico con cui la nostra società ci è strutturata, forse non siamo più in grado di stare attenti ai bambini. I bambini fanno vedere come sono le loro mappe, lo fanno vedere per esempio nei disegni e quando presentano i disegni alla mamma, la mamma dice si adesso però devo farti mangiare, te li guardo domani, domani vuol dire mai. Il che determina una sorta di frustrazione nel bambino, una perdita di autostima, un'inclinatura della propria identità, perché l'identità, dovete sapere, non è un dato che noi abbiamo per il fatto che siamo al mondo. L'identità è un fatto psichico, è il prodotto di una relazione sociale. Io non ho un'identità al di fuori di quelli che me la riconoscono. Se la mamma dice al suo bambino che è bravo e la maestra dice che è intelligente, il bambino si fa un'identità positiva. Se la mamma gli dice al suo bambino che non è bravo o la maestra gli dice che è un cretino, si forma un'identità negativa. L'identità è un fatto sociale, non è un fatto naturale. E allora bisogna stare attenti a non incrinare l'identità dei bambini. Poi i bambini, che fanno i bambini? A un certo punto della loro età incominciano a costruire delle relazioni causali, perché i bambini nascono completamente folli, acquistano la ragione gradatamente. e che siano completamente folli è che se uno della mia età si comportasse come un bambino che passa dal riso al pianto e quando prende un mano a un bicchiere non si sa che destinazione ha, oltre a quello di bere, mi porterebbero subito in manicomio. I bambini sono folli e acquistano gradatamente la ragione. Uno dei meccanismi attraverso cui acquistano la ragione è l'acquisizione del principio di causalità. Il principio di causalità nei principi di non contraddizione, prima di essere delle espressioni logiche, sono delle espressioni antropologiche. L'uomo nascendo in un contesto, i popoli primitivi, e torniamo indietro proprio all'origine del tempo, per poter riuscire a sopravvivere, hanno dovuto stabilire il significato univoco delle cose e soprattutto il nesso causale tra le cose. Allora, quando il principio di non contraddizione dice il bicchiere, il bicchiere e non altro, non è una verità, perché il bicchiere può essere usato per bere, ma può essere anche usato per picchiarlo in testa al proprio fratellino, e allora diventa un'arma impropria. Quindi non è vero che le cose si rispondono alle regole e alla ragione. Però il principio di non contraddizione è utile in maniera tale che quando il bambino prende in mano un bicchiere perché le mamme gli sono intorno, perché non si sa l'uso che se ne fa, gli cambia significato di volta in volta. Quando ha in mano un pennarello un po' disegna, poi dopo se lo mette in bocca e il pennarello acquista un altro significato che è quello di biberon, poi glielo caccia in all'occhio il suo fratello e diventa anche quella un'arma impropria. Le cose sono polivalenti quanto al loro significato e solo grazie alla ragione che stabilisce questo e questo e non altro, principi di non contraddizione, riusciamo a convivere. Per cui adesso io sto usando un microfono e vedo che nessuno in prima fila si spaventa perché presume che io lo tratti da microfono. questo non può essere anche un'altra cosa. E poi il principio di causalità il principio di causalità che riduce l'angoscia dell'imprevedibile. Se io riesco a stabilire un nesso per esempio tra il tuono e il fulmine adesso non so chi arriva prima non mi ricordo ma supponiamo che arrivi prima il tuono quando arriva poi il lampo non mi spavento perché ho fatto un rapporto di causalità tra le due cose se no mi spavento due volte. come fanno i bambini a stabilire il rapporto di causalità? Pongono delle domande che si chiamano perché e incomincio a quell'età in cui chiedono il perché di ogni cosa. Sono domande filosofiche tutte perché i bambini sono più filosofi degli adulti anzi addirittura sono filosofi ontologici loro gli adulti poi se la dimenticano l'ontologia e queste domande bisogna rispondere e lo so che è difficile ma bisogna rispondere non so io camminando una volta in via Vittorio Emanuele in galleria ho visto due signore ben vestite una delle quali aveva un bambino a fianco e il bambino a un certo punto ha detto alla sua mamma secondo me Dio non esiste perché non ha la mamma e vedo che voi ridete e la stessa cosa hanno fatto le mamme malissimo la mamma deve rispondere a queste domande perché è la ricerca del principio di causalità se tu ridi non gli rispondi il principio di causalità stenta a farsi strato in quella testa e il ragionamento era perfetto se io sono al mondo perché c'è una mamma come fa a esistere Dio se la mamma non ce l'ha? è difficile rispondere sì sono in grado io di rispondere no però bisogna provarci bisogna secondare il domandare infantile bisogna stare attento a cosa chiedono a riuscire a rispondere poi i bambini vanno a scuola quando vanno a scuola incomincia con la cosa terrificante dei genitori che parlano male delle maestre ma stiamo scherzando il bambino quando va a scuola differenzia la sua affettività attenzione bene questo prima c'è un'affettività rivolta a tutto il mondo genitoriale poi la indirizza anche alle maestre se i genitori parlano bene della maestra queste due affettività riescono a convivere con la serenità del bambino ma se il genitore parla mai della maestra perché si ritiene superiore alla maestra malissimo perché le maestre sono gli insegnanti più degni che ci sono nell'ordine scolastico italiano e non lo dico io a Venezia c'è stato un bel congresso internazionale in cui hanno fatto vedere che per esempio la scuola elementare in Italia è al sesto posto nel mondo mentre la prima università italiana era al 187esimo posto quindi bisognerebbe dare lo stipendio dei professori universitari alle maestre e quello delle maestre ai professori universitari anche perché le maestre fanno un lavoro che non è solo mentale è anche affettivo si danno del tu si abbracciano si baciano la mia maestra ogni tanto devono anche pulire il sedere dei bambini che ancora sono incontinenti è un lavoro tremendo ecco i genitori si mettono a palamare delle maestre creando una divaricazione nell'affettività dei bambini conseguenza di questa divaricazione non dico che sia la schizofrenia anche se la scissione schizofrenia vuol dire scissione la scissione su base affettiva è uno dei sintomi della schizofrenia non dico che questo genera la schizofrenia ma certamente genera una sfiducia di base perché se il papà che amo o la mamma che amo parla male della maestra che amo io non mi fido più di nessuno dopodiché i genitori non si devono lamentare che quando arrivano all'adolescenza i bambini se ne fregano chi è che gli ha insegnato a fregarsene a non fidarsi di nessuno del mondo adulto questi ragazzi che mi hanno scritto ho chiesto loro perché scrivete a me e queste cose non le dite ai vostri genitori ai vostri insegnanti risposta perché conosciamo già le loro risposte prima di fargli le domande quindi non parlano più questi adulti con loro i genitori devono sapere che quei bambini possono parlare fino a 10 11 12 anni poi basta poi la parola dei genitori è parola vana per cui dopo se il genitore dice studia diventa una parola vana se invece a questo ragazzino studia glielo dice la sua prima morosetta diventa una parola efficace giusto perché c'è quel passaggio dal mondo dell'amore incondizionato di natura genitoriale al mondo condizionato relazionale orizzontale che è il mondo dei propri simili e allora dopo non funziona più dopo non puoi più pretendere che tuo figlio ti parli se tu non gli hai mai parlato se non hai mai giocato insieme a lui i genitori devono curare i bambini almeno fino a 12 anni devono essere presentissimi guardare da vicino ogni piccolo progresso significarglielo questo progresso farglielo notare al bambino in modo che cresca la sua autostima allora nasce una fiducia nel mondo genitoriale e magari anche nell'adolescenza si apre un discorso se tutto questo non avviene se al posto delle parole arriva un'infinità di giochi comprati all'autogrill quando si torna dal lavoro fuori basta non puoi pretendere che tuo figlio un giorno ti parli e il tuo linguaggio alla fine sarà come va a scuola e a che ora torni fuori di lì non hai più possibilità di parlare dopo i 12 anni quello che funziona è semplicemente l'esempio danno buon esempio i nostri genitori proprio di no con le famiglie di oggi è un disastro vabbè voi le conoscete meglio di me separazioni divorzi lì in casa ecco l'esempio invece funziona un buon esempio funziona e dopo 10 anni in cui vi fanno vedere i sorci verdi tornano tornano su base esemplare ma voi dovete attrezzarvi a vedere i sorci verdi e dovete anche rassegnarvi a parlare con loro quando loro aprono la porta non dovete spaventarvi quando la sbattono la porta per uscire di casa perché o lo fanno in famiglia a 13, 14, 15 anni perché tutti dobbiamo fare l'edipo e uccidere il padre o se no dopo l'edipo lo si va a fare allo stadio o con la polizia bisogna comunque farlo bene poi i ragazzi vanno nelle scuole superiori e qui nelle scuole superiori cosa succede? succede che interviene quella cosa potentissima che si chiama erotica che non è solamente sessualità è anche sentimento è anche emozione la quale erotica non è qualcosa che si aggiunge alla visione del mondo che il ragazzo si è fatto nei primi 12 anni l'erotismo la sessualità non è qualcosa che si aggiunge l'erotismo e la sessualità è qualcosa che ti obbliga a rifare radicalmente la tua visione del mondo a rigiudicare te stesso e il mondo la parola crisi viene da crino che vuol dire giudico la crisi è il lavoro della riformulazione radicale della visione del mondo Freud in un articolo del 1909 dedicato al ginnasiale dice che la scuola deve fare qualcosa di meglio che indurre i giovani al suicidio si vede che già allora le cose andavano così che ridurre le cose al suicidio perché dice che il lavoro psichico di un ragazzo che avviene in un ragazzo a sua stessa insaputa non è cosciente il ragazzo di essere costretto a fare questa trasformazione la sta facendo è così faticoso dice Freud che la scuola non deve essere l'ultima prova della vita ma semplicemente un gioco di vita gioco non vuol dire che si deve giocare non significa che si deve andare a mangiare la pizza con gli studenti mai per favore mai perché un professore che va a mangiare la pizza con gli studenti non è più Dio tutti sappiamo che il successo di Dio è che nessuno l'ha mai visto il giorno che vai a tavola con loro sei uno qualsiasi e poi e poi questa i giovani cercano l'autorità e non state a credere la vogliono perché si sentono insicuri vogliono affidarci qualcuno vogliono avere un modello però questa autorità deve essere autorevole deve essere qualcosa di significativo un gioco di vita significa che i giochi hanno delle regole e le regole vanno osservate ma queste regole diventano significative e rassicuranti alla sola condizione che vengono proposte in un contesto dove chi le propone ha acquisito una certa significatività rispetto a questi ragazzi e qui arriviamo al punto se i ragazzi si trovano in condizioni erotico emozionali non affettive bisogna andare a prenderli là dove sono e se sono là bisogna arrivare là i professori devono arrivare là non introducendo le ore di educazione sessuale che i ragazzi ne sanno meglio dei professori no bisogna proprio beccare a livello erotico cioè entrare nel loro impianto affettivo nel loro impianto emozionale bisogna prenderli lì dove sono non sono da un'altra parte queste cose non le dico io le dice Platone per primo Platone dice che non si può imparare se prima non c'è una dimensione erotica ta erotica come condizione fondamentale dell'insegnamento e dell'acquisizione di sapere e anche filosofia è una sofia è un sapere che si acquisisce attraverso la filia attraverso una condizione di amicizia di amore e di amore Eros dice Platone è filosofo non si entra anche la cultura cristiana per quanto severa con Paolo di Tarso dice non entratano in verità temi nisi per carità temi che tradotto un po' laicamente non entri nel sapere se non attraverso l'amore e i professori amano i loro studenti o hanno semplicemente paura dei loro studenti non lo so questo cosa comporta comporta che i professori purtroppo lo so che qui i professori mi detestano mi insultano mi scrivono di ogni perché dico che i professori per fare i professori devono essere sottoposti a un test di personalità che verifichi oltre al loro sapere anche la loro capacità di comunicare e anche la loro capacità di affascinare Platone dice che si impara per imitazione per partecipazione per fascino io aggiungerei anche per plagio perché no meglio il plagio della demotivazione almeno nel plagio hai una direzione nella demotivazione non sei più che strada prendere o il professore si arrabbiano se dico queste cose ma guardate che chiunque va a lavorare per andare a lavorare deve sostenere dei colloqui non credete che i colloqui siano parlare del più del meno i colloqui sono dei veri e propri test di personalità se una casa editrice deve assumere un correttore di bozze nel colloquio quello che verifica la sua attenzione polarizzata a vedere se questo candidato è un ossessivo grave perché solo se è un ossessivo grave può essere un buon correttore di bozze perché altrimenti è un disastro la stessa cosa lì se è capace di comunicare se è capace di affascinare non so io penso un corazziere non può fare il corazziere se è alto un 1,50 un professore anche se non sa comunicare non sa affascinare può fare il professore per 40 anni per motivare classi e classi di studenti e la demotivazione è l'anticamera della depressione e la depressione quando è grave diventa l'anticamera del gesto estremo hanno una responsabilità pazzesca questi professori bisogna che se ne rendano conto fanno i professori senza che nel loro curriculum sia mai stato indicato loro lo studio per esempio della psicologia dell'età evolutiva non ne sanno niente non ne sanno niente non solo ma la scuola italiana a seguito dei pedagogisti appena comparsi la gente si è arrabbiata con l'ultima riforma della scuola perché i professori devono essere trasferiti dal sud al nord è ovvio se al nord ci sono tanti studenti e al sud ci sono tanti professori bisogna trasferire uno o l'altro mica si possono trasferire i ragazzi ma il problema grave invece passato inosservato passato inosservato è il passaggio che si è determinato dalla comprensione della soggettività dello studente alla considerazione limitata alle loro prestazioni esempio a Milano nei licei non si fanno più i temi in classe i temi sono il luogo in cui lo studente tira fuori la sua soggettività ma come si fa dicono i pedagogisti sul modello americano a valutare la soggettività degli studenti non si può allora i temi non li facciamo più quindi non li conosciamo più questi ragazzi e facciamo la comprensione di un testo scritto io ti do un testo ti segnalo dieci parole tu mi dai la spiegazione di queste dieci parole ogni parola che sbaglia un voto in meno quindi tu sei misurato dalla prestazione non sei misurato in chi sei tu perfetti sconosciuti diventano dopo questa riforma pedagogica di cui nessuno ha parlato e nessuno si è scandalizzato e i professori si sono perfettamente adeguati c'è una lettera di uno studente che dice caro professore lei vedo che si trovi in imbarazzo con la pagella con la lavagna multimediale lì usi pure quella col gesso si capisce lo stesso l'importanza è che quando parla ci affascini però e c'ha ragione la scuola non è quella roba lì non bisogna riempire la scuola di computer bisogna riempire la scuola di maestri signori miei avviene questa questa rivoluzione no perché in Italia la scuola è sempre stato un luogo di occupazione nel senso bisogna trovare lavoro a quelli che si erano laureati i studenti erano l'ultima cosa la stessa cosa avviene a livelli ancora più immorali all'università che succede in questa età poi in questa età succede che bisognerebbe in questa fase passare dall'istruzione all'educazione che sono due cose radicalmente diverse perché l'istruzione è la trasmissione di contenuti mentali da una testa all'altra da un professore a uno studente l'educazione invece è la cura della sua parte emotiva sentimentale oggi noi soffriamo di ragazzi che hanno degli handicap significativi a livello emozionale e a livello sentimentale mi diceva Benasaiaga che aveva aperto uno sportello un filosofo Benasaiaga che insieme a Guerra Zimit aveva aperto uno sportello per il disagio giovanile e alla domanda quando veniva un giovane di che cosa soffra di che cosa sta in male la risposta era boh non lo so però sto male quindi non conoscono neanche il nome della sofferenza tantomeno i percorsi che si possono fare per uscirne fuori e allora qui prendiamo in considerazione una piccola scaletta una piccola scaletta dobbiamo tenere presente che noi abbiamo per natura gli impulsi o pulsioni come li volete chiamare che non hanno linguaggio hanno gesti per cui se tu mi dai del cretino io do uno schiaffone se sono rimasto a livello impulsivo esempio di impulsività e di pulsionalità di gente rimasta alla pulsionalità sono i cosiddetti bulli che fa la scuola con i bulli e li sospende invece dovrebbe tenerli il doppio a scuola per fargli consentirgli un passaggio dalla pulsionalità all'emozione che è già un passaggio significativo no la scuola non se ne occupa dei bulli è come la storia dei passi i passi perché venivano messi in manicomio mica per curarli quando sono nati i manicomi nell'ottocento mica per curarli ma per difendere la società dai passi e perché vengono buttati fuori i bulli per difendere quelli bravi a scuola la stessa cosa per cui vengono messi un po' fuori quelli di colore che poveretti ritardano lo sviluppo mentale dei bambini italiani ma stiamo scherzando ragazzi continuiamo a pensare queste cose anche se non le tematizziamo io ho visto seguendo i miei nipoti in scuola elementare che fino a seconda elementare giocano con tutti sono anche curiosi con uno c'è la faccia nera gli altri c'è la occhia amanda la sentono dalle storie dei loro paesi che erano sentite dai genitori rispettivi poi incominciano la terza elementare incominciano a evitarli quelle di colore come mai? perché gli hanno detto che con quello lì non devi giocare quello lì non lo inviti a casa oh e allora si innesca qua il razzismo noi dopo abbiamo questi esiti elettorali va bene andiamo avanti andiamo avanti a livello emozionale provano emozioni questi ragazzi dunque l'emozione è una cosa importante prima ho parlato a voi delle mappe emotive no? cioè io compio un gesto e ho una risonanza emotiva di quel gesto ovvero se ti do una carezza avrò una risonanza emotiva se ti do uno schiaffo avrò un'altra risonanza emotiva giusto? Kant diceva che la differenza tra bene e male possiamo anche non definirli non definirla perché ciascuno li sente naturalmente da sé oggi non è più vero che uno sente naturalmente da sé o perlomeno non è sempre vero che uno sente naturalmente da sé la differenza tra parlare male di un professore o pigliarlo a calci o addirittura a coltelli oppure tra fare la corte a un ragazzo o stuprarla non è vero che lo sentono naturalmente da sé questo non sentire nell'ottocento aveva un nome nella psichiatria ottocentesca che era molto più saggia di quella attuale fatto su base statistica la psichiatria ottocentesca aveva coniato il nome di psicopatia psicopatia cioè aveva coniugato un nome in cui diceva che la psiche non registra è apatica non registra la differenza tra il bene e il male tra ciò che è grave e ciò che è grave non è ci siamo? bene io mi ricordo mi ricordo solo perché me ne sono occupato a suo tempo vi ricordate quel delito di Eric e Omar che avevano ammazzato la mamma il fratellino non è questo il momento psicopatico il momento psicopatico è subito dopo quando dopo aver fatto quel delito vanno come ogni giorno al solito bar a bere la solita birra quindi questo comportamento successivo lascia intendere che quel che è successo quel giorno non è dissimile da quel che succedeva nei giorni precedenti non hanno capito la differenza questa è la psicoapatia e oggi i giovani sono abbastanza psicoapatici capiscono poco la differenza non dico tra il bene e il male ma tra ciò che è grave e ciò che grave non è e allora su questa base tu l'hai perso ragazzo non c'è niente da fare perché se uno non ha un renei interno che gli fa capire la differenza tra da trastuprare o corteggiare ormai è disastrato io mi ricordo ancora per essere meno occupato quando andato in carcere a Tortona a intervistare quelli che buttavano il sassio al cavalcavia alla domanda perché lo facevi che cosa provavi la risposta era ma era un gioco cioè nessuna risonanza dentro di loro ora non dico che i nostri giovani sono psicopatici ma certamente sono meno meno sensibili la psicopatia va montando perché monta? io mi sono fatto un'idea anche di perché perché quando i bambini sono piccoli devono fare un'infinità di cose devono andare a scuola poi devono imparare l'inglese poi devono imparare a giocare a pallone poi devono imparare a sciare se sono bambini devono suonare il pianoforte devono andare a danzare e quante cose ancora devono fare i bambini si devono annoiare anche la noia è il luogo in cui tu crei perché è così pesante la noia che ti viene da creare nella noia inventi i giochi e non hai quei giochi che i bambini nei loro compleanni a Natale e disfano con voracità e rapidità e poi buttano là ecco se hanno troppi stimoli i bambini hanno due chance o vanno in angoscia devono fare troppe cose o vanno in angoscia oppure abbassano la percettività della loro psiche esattamente come fanno i vecchi i vecchi molti vecchi sanno camminare però di fatto o non escono di casa oppure se escono fa sempre lo stesso giretto perché lì tutti gli stimoli che possono incontrare li conoscono già ma non si sporgono oltre perché avrebbero degli stimoli che non riescono a codificare e la nostra psiche si è fatta che tu sei tranquillo finché hai codificato tutti gli stimoli se te ne arrivano altri che non riesci a mettere insieme hai due chance vai in angoscia o abbassi la percezione psichica dentro di te e diventi psicoapatico prima cosa tutti quei regali che si danno ai bambini concorrono anche loro alla psicopatia perché i regali non risuonano dentro di loro prima di tutto diciamo dei regali che magari non hanno neanche desiderato e volete mettere invece un gioco che si inventano loro rispetto a un gioco già confezionato che devono semplicemente usare quando eravamo poveri inventavamo dei giochi prendevamo per esempio i coperchietti delle birre ci scrivevamo dentro il nome dei corridori e facevamo la gara per vedere chi vinceva al Tour de France con questi tollini e quelle cose lì siccome le hai fatte tu ti interessano e c'è il momento creativo quando invece tu fai dei doni che oltrepassano che il ragazzo non ha neanche desiderato doni che a te ti compensano perché hai parlato così poco che ti fai sostituire le parole mancate con i regali che gli fai no? guardate quando ho fatto un regalo se non fate questa operazione cina ecco e cosa fai? che uccidi nei ragazzi il desiderio il desiderio si estingue se io ho cose che neppure ho desiderato e quando tu hai in qualche modo indebolito il desiderio del bambino ti devi lamentare che dopo lui non abbia voglia da giovane di cambiare il mondo perché per cambiare il mondo bisogna avere un desiderio di cambiarlo no? Deleuze Gilles Deleuze il filosofo francese dice che il desiderio è potenzialmente rivoluzionario è la macchina che ti fa cambiare il mondo e ti fa cambiare la vita ma se non hai più desideri dopo avete questi ragazzi non so tranquilli rassegnati che dormono fino a mezzogiorno che si drogano che bevono che io non credo che facciano queste cose per il piacere che produce loro l'alcol e la droga io credo che lo facciano per anestetizzarsi nel senso che se il futuro non mi presenta proprio niente io non voglio angosciarmi pensando il mio futuro e mi anestetizzo mi anestetizzo o dormendo fino a mezzogiorno o ubriacandomi o vivendo l'assoluto presente in modo tale che non mi appaia al futuro ultimo stadio ultimo stadio passare impulsi o pulsioni emozioni le emozioni sono molto importanti sono la metà strada tra la cultura e la natura nel senso che possono essere presenti in natura e poi represse per effetto culturale a secondo di come va la nostra civiltà e come è educata la nostra civiltà è chiaro che se ci fanno vedere continuamente con la mentalità di oggi che conta solo con la novità dopo un po' di volte che vediamo le tragedie in Afghanistan o in Iraq non ce ne frega più niente dei morti sepolti non ci importa più niente perché la nostra psiche poi non è in grado di emozionarsi se non per le prossimità per ciò che è vicino no? se muore mia moglie soffrirò come un cane se l'ho amata se muore il mio vicino gli faccio le condoglianze se mi dicono che ogni secondo muoiono otto bambini al mondo io ho un vissuto di impotenza e per non toccare con mano la mia impotenza non ci vado purtroppo la nostra psiche ha questo limite ci viene offerto il mondo e le tragedie del mondo cosa che non era nell'età precedente i mezzi di comunicazione ci offrono il mondo negli anni 50 noi conoscevamo il mondo del nostro paese il mondo del nostro rione ma non il mondo quando la nostra psiche non è in grado di stare al mondo perché è in grado di stare solo nel suo ambiente i tedeschi hanno una parola per dire mondo Welt e poi hanno un'altra parola per dire il mondo che la tua psiche abita che è Um Welt il mondo circostante il prossimo il mondo prossimale e più mondo globale ci fanno vedere più riducono la nostra capacità psichica di reagire Heidegger definisce l'uomo non lo chiama né mensch né man ma lo chiama inderweltsein essere nel mondo intendo per mondo appunto l'unwelt il mondo circostante i nostri giovani sono al mondo io direi che questa frase di Heidegger molto opportuna che capovolge l'ordine psichiatrico e l'ordine psicologico che è un derivato tutto cristiano secondo tu i processi psichici si svolgono in interiore ominis mentre la psiche è un rapporto corpo mondo ecco oggi dei nostri giovani non potremmo dire inderweltsein essere nel mondo dovremmo dire inderweltsein essere in un mondo virtuale e il mondo reale e parlare col corpo dell'altro di fronte e incrociare lo sguardo fatto di carne e ossa tutta questa roba qua no non c'è più non c'è più Punterandas dice il problema oggi non è tanto di sapere cosa possiamo fare noi con la tecnica ma che cosa la tecnica può fare di noi certamente la tecnica nei processi educativi determina uno sviluppo dell'intelligenza convergente che non serve a niente e una mortificazione dell'intelligenza divergente che invece fa andare avanti la storia convergente è quella intelligenza che risolve i problemi partendo da come il problema è stato impostato divergente è invece l'intelligenza che risolve i problemi capovolgendo l'impostazione del problema questo cosa vuol dire non so Copernico quando ha stabilito proviamo a immaginare che non sia la terra ma sia il sole il centro dell'universo ecco qui che cambia l'impostazione del problema la storia va avanti per intelligenze divergenti ma se tu frequenti il computer tu sei all'interno del modo con cui il problema è stato impostato che si chiama programma e se lavori all'interno del programma trovi soluzioni all'interno del programma la tua intelligenza resterà convergente convergente è già l'intelligenza che richiede la scuola perché i creativi vanno male a scuola non si sa disturbano i creativi hanno un'intelligenza divergente di solito e poi con l'introduzione dell'informatica c'è uno sviluppo dell'intelligenza convergente e guardate che se tutti pensiamo la stessa cosa e se alla fine sentiamo tutti la stessa cosa non è una bella prospettiva anche in ordine alla democrazia mi raccomando come dice Nietzsche quando l'umanità diventa grege vuole l'animale capo bene bisogna sviluppare il sentimento nella scuola il sentimento non è naturale il sentimento è culturale i sentimenti si imparano non sono dati in natura in natura sono dati le pulsioni sono date le emozioni ma non i sentimenti i sentimenti si imparano tutte le tribù primitive hanno raccontato dei miti in maniera tale da fare una sorta di descrizione di scenario dei sentimenti umani delle passioni umane e dei percorsi che si possono fare per riuscire bene o per riuscire male questi miti a sentire Ernesto De Martino che è stato un grande antropologo nella seconda metà del novecento e che faceva i suoi esperimenti sulla popolazione della Basilicata pensate che negli anni 50 in Basilicata dove ha lavorato De Martino non si conoscevano gli specchi e quando De Martino gli faceva vedere chi si guardava aveva delle crisi psicotiche perché non aveva mai visto la sua faccia 1950 quindi non nel medioevo bene cosa succede? lui dice bisogna che i miti i racconti facciano quella metastoria per cui io che mi trovo in questa situazione di difficoltà della mia esistenza di precarietà della mia esistenza ho dei paradigmi di come si esce perché conosco che la mia situazione assomiglia a quella raccontata in quel mito e così si esce allora la nostra storia personale deve sempre rifarsi una sorta di metastoria la mitologia greca la mitologia greca era un grandissimo scenario di sentimenti di passione umana Zeus era il potere non so a tenere intelligenza a frodito la sessualità a polo la bellezza ares l'aggressività dioniso la follia era rappresentato tutto altro che dei falsi bugiardi era un aiuto enorme nella condizione della propria vita avere questi modelli questi miti come è successo questo in quella storia con quel mito così succede a me e si esce così o ci si danna così le nostre nonne facevano questa funzione le nostre vuol dire le mie perché non so quelle di oggi non so facciano il lifting passano il loro tempo a fare queste cose raccontavano storie anche truculente perché i bambini è bene che conoscono anche il male dice Freud smettiamola di insegnare ai bambini che le cose sono tutte belle non è vero non le prepariamo quando incominciano a affrontare la vita i bambini devono conoscere anche la morte anche se hanno 5 o 6 anni devono vedere anche i morti e fanno fatica a interiorizzare questa figura perché non rientra nella loro dimensione però devono incominciare a conoscere c'è anche il male dice Freud smettiamo di raccontare le favole di Natale dice lui anche se è molto consolante per gli adulti conclude va bene i sentimenti si imparano e adesso noi non possiamo più ricorrere ai miti abbiamo però quel repertorio pazzesco che è la letteratura che cos'è la letteratura in poche parole è il luogo in cui tu conosci che cos'è l'amore in tutte le sue configurazioni in tutte le sue declinazioni che cos'è il dolore che cos'è la noia che cos'è il suicidio che cos'è la disperazione che cos'è la tragedia e le impari di queste cose allora nella scuola non bisogna introdurre computer perché tanti ragazzi li sanno maneggiare tranquillamente non hanno bisogno di andare alla scuola per imparare sarebbe come se quando sono entrate le macchine sono state inventate le macchine la scuola avesse dovuto incaricarsi di insegnare la patente no imparare la patente è un'altra parte la scuola la scuola deve formare i sentimenti perché l'educazione è questo si distingue dall'istruzione proprio per la cura dei sentimenti devi insegnare queste cose ai ragazzi e quindi tanta letteratura tenendo conto che le scuole fino a 18 anni sono tutte scuole di formazione che si chiami liceo magistrali istituto tecnico non è che devi ancora imparare un mestiere o scuola lavoro o robe di questo genere impara a essere uomo perché dopo che sei uomo puoi cominciare a imparare una specialità una formazione una capacità una competenza ma prima forma l'uomo e l'uomo lo forma e se gli crei una dimensione sentimentale dentro sentimento è una facoltà cognitiva non è solo qualcosa che si sente una mamma conosce la sofferenza del suo bambino anche se il bambino non parla perché lo ama se viene lì un terzo e vede che il bambino piange non capisce perché piange due innamorati capiscono la densità lo spessore delle parole che si scambiano perché si amano sopraggiungi un terzo quelle parole non acquistano lo stesso significato l'amore è conoscenza una conoscenza non razionale ma l'irrazionale non è una cretinata l'irrazionale è anche un modo di arrivare alla cosa prima ancora dei procedimenti di pensiero tanto per fare un esempio quando voi dovete comprare una casa pensate di fare tutti i vostri ragionamenti il mutuo il costo i soldi che avete la richiesta di un po' di soldi dai vostri genitori fate tutti i calcoli sul tavolo ragionate guardate la casa stabilite il piano l'esposizione e tutto quanto finito tutta questa operazione razionale quando decidete di comprarla entrate in quella casa e nel momento in cui entrate vi sentite o non vi sentite a casa sta roba si chiama sentimento è lì che accade la decisione le decisioni avvengono tutti su base sentimentalistica e perché lì siamo fatti così allora i sentimenti vanno insegnati ai ragazzi e sulla base dei sentimentali quando avete a che fare con un uomo dopodiché le competenze si acquisiscono molto rapidamente soprattutto le competenze tecniche sono di una semplicità pazzesca molto più semplice imparare una competenza tecnica che imparare una competenza di vita bene e ne chiudiamo il discorso dicendo che dunque i giovani dai 15 ai 30 anni hanno il massimo della forza biologica cioè il loro corpo è un corpo bello forte e anche quello stereotipo che i ragazzi vogliono fare le veline o i calciatori sarà uno stereotipo però è un segnale che dice l'unica cosa che posso vendere è il mio corpo o comunque il mercato di me chiede il corpo la forza la bellezza queste figure qua e guardate che gli operatori di mercato conoscono i giovani meglio dei loro genitori e meglio dei loro insegnanti anche perché i giovani con le loro macchinette smartphone eccetera continuano a fornire informazione agli operatori di mercato poi hanno il massimo della potenza sessuale tra i 15 e i 30 anni ma non è procreativa perché la nostra società non ti consente di fare un figlio a 14 anni quando si sviluppano gli organi sessuali e già Maritain che era un filosofo cattolico scrive a Paolo VI una lettera in cui dice che la nostra società ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto so benissimo che i giovani non fanno gli angeli però tutto sommato una società che diventa procreativa a 30-35 anni è una società che declina è inevitabile e poi l'intervallo l'intervallo tra la potenza sessuale e la riproduttività è eccessivo e quando si crea un eccesso di distanza tra natura e cultura c'è qualcosa che non funziona soprattutto dai 15 ai 30 anni c'è il massimo della potenza ideattiva massimo è in quell'età lì per esempio i matematici sono esclosi dal premio Nobel perché inventano teoremi al massimo fino a 30 anni poi non ce la fanno più poi fanno i professori di matematica tant'è che loro hanno fatto un Nobel per loro conto che arriva però fino a 35 anni in cui si premiano tra di loro sulla base di quello che hanno fatto Einstein ha trovato la sua formula 24 anni Bill Gates non era molto vecchio quando ha inventato il suo sistema Google Mozart suonava a 17 anni davanti a principi e papi è il massimo della potenza è una potenza ideattiva che ha già capito troppe cose anche se non le ha sistemate dentro nella sua testa se noi utilizzassimo e parlassimo con questi giovani i loro momenti ideativi invece di assumerli per fare le fotocopie o metterli lì in uno stato e pensare che i vecchi sappiano tutti i vecchi hanno il loro sapere la loro esperienza ai giovani non serve a niente la loro ideazione è intuitiva del futuro non li utilizziamo non li utilizziamo a questo punto ditemi voi che società può avere un futuro io qui ho finito vi ringrazio arrivederci grazie a tutti